Ciao Francesca, eccoci qua a Rimini, al Cigep, il mondo del gelato e di tutto quello che ci ruota intorno. Ci sono veramente tantissimi prodotti vegan, tantissimi prodotti veramente certificati vegan ok e ci prepariamo insieme ad andare a fare questa esplorazione per i corridoi dei padiglioni e ve ne faremo vedere delle belle. Qui abbiamo tutta una gamma vastissima di gelati vegan ok e possiamo trovare questi che adesso vi descrivo. Questo è un cono certificato vegan ok, è un cono anche senza glutine e quindi indicato anche per chi ha problemi di celiachia. Poi ci sono i prodotti in cialda, questa è una cialda stampata, queste sono le vere cialde, proprio quelle gustosissime che si zuffano nel gelato, favolose che noi vegani ce le sogniamo oppure ce le dobbiamo fare in casa invece per fortuna tra poco le troveremo nelle gelaterie. Questo fantastico che mi ha sempre fatto gol e non l'ho mai potuto mangiare è il cestino di cialda. Beh, questo è vegano, finalmente anch'io mi potrò assaporare, anche voi amici vegani ci potremo tutti assaporare insieme un gustoso gelato vegano e non una cialda vegana. Quindi a tutti go vegan, non ci sconti! Ciao ancora agli amici di Veganokai Network, siamo qui a Cigev e siamo nell'area Fuga e abbiamo potuto gustare un fantastico gelato vegan ottenuto grazie alla linea Olti certificata Veganokai. Gelato Tecnoblank al gusto di arachide, buonissimo! Icomplital presenta qui al Cigev e 2015 una linea di gelati straordinari tutti vegan. Questi gelati sono stati ideati, pensati, inventati da quest'uomo straordinario che è lo chef pasticcere Emanuele Di Piase, anche lui, certificato Veganokai. Go Megan! Adesso assaggiamo questo buonissimo gelato Veganokai. La buonissimo gelato!